Buon pomeriggio musici sportivi e benvenuti a Pomigliano Savoia, terza giornata di campionato interregionale Serie D, Girone H. Andiamo a vedere la formazione del Pomigliano, Caparro, Savarizio, Titascia, Cameni, Ferraro, Imparato, Sissecco, Stabile, De Luca, Soriano, Calone. A disposizione di Mister Lacava, Amato, Labriola, Ritieni, Banco, La Montagna, Trillo, Banco, Volo e Fumarella. Andiamo a vedere la formazione del Savoia, Savini, Nives, Esposito. Cacace, Pozzello, Alvino, il Capitano, Riccardo, Del Sorbo, Gatto, Rechic, e Ausiello. A disposizione di Mister Squillante, Riccio, Tedesco, Felici, Stellato, Guastamacchia, Moretta, Rucci, Rosso e Marino. E si parte con il primo pallone toccato dal Pomigliano. Calcio d'angolo, attenzione, il pallone respinto dalla difesa del Pomigliano. Poi il colpo di testa di Del Sorbo e c'è la parata di Caparro. parte Riccardo, il destro e Caparro si spinge in angolo. Riccardo, il cross dentro! E Cacace, fa il Savoia in vantaggio! Come in Coppa Italia, ci pensa il difensore, classe 87, Davide Cacace. E il Savoia passa in vantaggio. Rivediamo il calcio d'angolo battuto da Riccardo. Prova sul primo palo Cacace. Batte così Caparro. Attenzione all'addestro di Riccardo! Caparro mette in angolo con un brimbo. Termina qui la prima frazione di gioco, Pomigliano 0, Savoia 1. Si riparte con la seconda frazione di gioco. Attenzione che attacca il Pomigliano sull'auto di sinistra, il destro e Savoia mette in angolo. Ausiello, Ausiello. Vede sull'auto di sinistra esposito. Cerca e trova poi, attenzione, il cross. Caparro para. Del sorbo. Fonda per Alvino, il cross. Il pallone messo in calcio d'angolo. Palla dentro! Ancora Caparro con un brimbo. Avanza il Savoia. Con Del Sorbo, Del Sorbo, Del Sorbo. Del Sorbo a giro! E Caparro. Attenzione al Pomigliano che entra in aria. E poi c'è la sinistra e la parata di Savini. Contro piede della Savoia con il tedesco. Tedesco, tedesco, attenzione al tedesco. Uno contro uno di tedesco. Tedesco, tedesco. Tedesco, il sinistro è debole. Para Pagaparro. Pozziello. Per un lancio lungo. Ausiello di testa, anticipa un avversario. Poi tedesco. Per Del Sorbo. Del Sorbo dentro. Per Ausiello! Che occasione per il Savoia per chiudere il match. E finisce qui. Arriva la prima vittoria in campionato per il Savoia. La rete di Kaká c'è il sedicesimo della prima frazione di gioco e decisiva. Ripetiamo il risultato finale. Pomigliano 0, Savoia 1 e da Pierpaolo Milano è tutto.